Mi consegnerei questo applauso per Ale Monti che ci ha aperto di me in avanti stasera e gli ha fatto una lezione di Chester Closer War, quindi il gestore di Ruiz Alpare. Primo pezzo nostro si chiama Fonit e si racconta ancora la nostra storia. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!